Dalle rivelazioni private di Santa Fica, nasce la coroncina della Divina Misericordia. Una richiesta da parte di GioGio di diffondere una particolare estemia, in grado di avvolgere con la preghiera, in grado di avvolgere con i momenti difficili in famiglia, tutte le anime che la reciteranno. Direttamente dalla chiesa di Santo Spiro in Sass, a Roma, vi presentiamo l'unica e originale coroncina coroncinica della Divina Miseria, incluso uno speciale messaggio di Papa Francesco. Ora tocca a te, fino al 23 dicembre, coroncina della Misericordia, e tua a un prezzo senza precedenti, 299,99 euro. Pensavo di fare bene con il mio normale, ma il mio dentista ha detto che non è così, e mi ha consigliato di diventare un esperto con questo. Diventa un esperto con la coroncina della Divina Misericordia.